Una sostanza oleosa era stata versata sulle acque del canale Albani nella tarda serata del 9 febbraio scorso. L'emergenza era scattata intorno alle 23.45 quando la sala operativa della Guardia Costiera aveva ricevuto la segnalazione dei vigili del fuoco di Fano, allertati a loro volta da un cittadino che aveva notato un liquido galleggiante passeggiando sul ponte che separa Viale Kennedy da Viale Gramsci. Poi i militari del nucleo di pulizia marittima in servizio nel circondario di Fano insieme ai tecnici dell'ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesero e Rubino, avevano prelevato in più punti dei campioni d'acqua per analizzarli, sia nel tratto a monte che in quello a Valle di Bellocchi. In poco tempo gli accertamenti hanno permesso di ricondurre l'accaduto ad uno sversamento accidentale di una sostanza equiparabile al cherosene e proveniente da un'azienda del territorio che pare essere di Bellocchi. I presunti responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per aver violato le norme previste dal testo unico ambientale. Sull'argomento invece il comandante dell'ufficio circondariale marittimo, Fabrizio Marilli, assicura che l'attività di monitoraggio sarà una delle priorità dei prossimi mesi, in particolare sui corsi d'acqua che sfociano in mare anche in considerazione dell'avvicinarsi della stagione estiva.